Per Antonium ad Iesum, lezioni 19 e 20 Lezione 19 Ai piedi di Gesù Questa frase, in bocca di Sant'Antonio, ha un senso recondito di profonda umiltà e di sublime carità. Se tu avessi un po' di spirito di fede, vedresti nel tuo prossimo Gesù. Allora penseresti come il gran precursore, che si giudicava indegno di sciogliere i legaccioli dei suoi sandali. Godi di farti il piccolo sgabello del Signore, di metterti per amor suo sotto i piedi di tutte le creature, e questo in spirito di adorazione, per onorarlo, servirlo, per anientarti, per stare al tuo posto, ai piedi di Gesù. È la parte migliore, che non ti sarà tolta. Non le fu difficile crearsi una numerosa clientela, ed eccola, con l'ago e coi ferri, ad accomodare calze. Sorpresa dal suo amabile maestro in tale lavoro, gli sorrideva, come per dirgli «Voi lo sapete, perché rammendo calze». Per umiliarsi cercava pure l'occasione di maneggiare la scopa. Sant'Antonio non sappiamo come gliela procura. Le parve cosa dura da principio, ma piuttosto divenne un bisogno spirituale, un sollievo per l'anima mia, avida di sentirsi piccola. In premio il Santo le suggerì il mezzo di santificare e impreziosire quell'umile fatica. Offri ogni granello di polvere come un atto di amore e di abbassamento alla santa presenza di Dio. Un'altra volta, pensa che Dio ti attratta dalla polvere, che tornerai in polvere. Che cosa sei davanti a Lui, né più né meno che un impercettibile granello di polvere. Essi obbediscono alla scopa e tu, qualche volta, resisti a Dio. E una terza volta, a Nazareth spesso, il tuo Gesù spazzò per aiutare la sua Santissima Madre. E tu, lo fai con la stessa cura, con lo stesso amore, con la stessa perfezione, nel medesimo spirito di adorazione? Così, nulla vi è di piccolo ai piedi di Gesù. Lezione 20 Adorazione Confessa la serva di Dio che fino agli undici anni non aveva saputo che cosa fosse adorare. Lo comprese il giorno della prima comunione e lo giudicò un'ispirazione dello Spirito Santo. Da quel giorno, se doveva passare davanti alla cappella, vi entrava e si prostrava un minuto per fare l'adorazione. L'adorazione del pubblicano, come essa la chiama, conservò sempre l'abitudine di recitare lentamente il confitior, stando alla porta, come il pubblicano del Vangelo. Sant'Antonio, con cura minuziosissima, coltivò questo spirito nella futura adoratrice, suggerendole motivi e metodi. Una sera, narra Suor Maria Giuseppina, essendomi mostrata molto tenace nelle mie opinioni, nel discutere con Suor Enne, fu così scontenta di me stessa che non potevo più ritrovare la solita familiarità col Signore. Il mio grande amico venne in mio soccorso e con mano vigorosa, facendomi prostrare fino a terra, mi disse «Piega il capo». L'adorazione è il più pronto antidoto contro ogni colpa, è la reazione più speditiva. Adora la volontà santa che hai disprezzata e condanna all'umiliazione la tua volontà ribelle. In ogni contrarietà, Sant'Antonio vuole che il mio primo atto sia di prostrarmi e di adorare, dicendo «Mio Dio, perché non sono nulla, perché sono creatura, tu hai ogni diritto su di me, e anche se non ne avessi alcuno, il mio cuore sarebbe orgoglioso di darteli tutti. Opera dunque da padrone, dammi la tua grazia e il tuo amore». In ogni impressione di turbamento e di inquietudine, l'adorazione è il migliore dei calmanti. Non era ancora entrata fra le adoratrici e il buon maestro le diceva «Vivi da adoratrice». Quando sei sola, di giorno o di notte, pensa che anche il tuo Gesù è solo in molti tabernacoli. Trasportati in spirito nelle più povere chiese di campagna e lì adora e ripara. Costituisciti l'adoratrice delle ostie abbandonate, la riparatrice delle ostie oltraggiate. San Francesco d'Assisi insegnò ai suoi frati questa preghiera. Noi ti adoriamo, Santissimo Signor Gesù Cristo, e qui e in tutte le chiese che sono nell'universo mondo, e ti benediciamo perché, col mezzo della tua santa croce, hai redento il mondo. Divenuta religiosa e adoratrice per condizione, Sor Maria Giuseppina era svegliata spesso dal suo grande amico, che le diceva «Non pensi abbastanza che l'adorazione deve essere lo scopo della tua vita. Tutto vi deve convergere. Non ti curi abbastanza di ricavare dall'adorazione tutto quello che potresti attingervi di prezioso. Gesù è lì, sovrabbondante di grazie. Egli aspetta che una mediatrice le venga ad implorare per spanderle sulle anime. È la missione che riserva alle sue adoratrici. Il Padre cerca adoratori in spirito e in verità, come se realmente avesse bisogno di noi per spandere a torrenti la bontà infinita del suo cuore. Egli è la fonte di acqua viva, ma vuole che noi siamo i canali per cui si spanda la sua pienezza e si soddisfi ogni sete che egli solo può soddisfare». Sant'Antonio prega per noi e per tutti i sacerdoti. Sant'Antonio prega per noi e per voi. Sant'Antonio prega per noi e per tutti i sacerdoti le venga. Grazie a tutti. Grazie a tutti.